Sindaco Luigi Lucchi, sabato scorso c'è stata una bella iniziativa a Ghiare, un campo sintetico per i giovani e gli sportivi locali. Sì, è un campetto della parrocchia gestito dal comune di Berceto con una convenzione che aveva fatto Bigliardi Lodovico. I cittadini di Ghiare, direi tutto il paese, attraverso la Proloco, attraverso altre associazioni del volontariato, sono riusciti a coinvolgere.